Allora, Coach Di Lorenzo, prima di parlare di orzi nuovi, un passo indietro che i Tigers ti hanno consegnato le tre gare di semifinale contro Piombino. Sicuramente c'è un entusiasmo diverso, una sorta di tranquillità, nel senso che non abbiamo l'ansia della vittoria per forza, voglio dire. Sappiamo che affronteremo una squadra forte, sappiamo che ci giochiamo una finale, però abbiamo quell'ottimismo dentro di noi che ci siamo portati a queste tre partite qui, quindi viviamo meno la pressione, al mio modo di vedere, di una finale. Venendo invece ad orzi nuovi, curriculum di assoluto rispetto, zero sconfitti ancora, in post-season e sono l'unica squadra che in stagione regolare hanno battuto due volte i Tigers. Che serie ti aspetti? Per quello che ti dico che siamo tranquilli, perché è una squadra forte e quindi non c'è partita, lì c'erano loro facili. No, c'è da dire che loro si sono nascosti dall'inizio dicendo che era un progetto lungo, che dovevano aspettare il palazzetto, in realtà la squadra è molto forte, è ben allenata, ha dimostrato tutto l'anno di essere una squadra solida, concreta e quindi è una squadra che ci ha battuto veramente due volte, soltanto che al mio modo di vedere, erano due momenti diversi nella stagione, noi non siamo quelli di novembre, nemmeno quelli di marzo. Grazie. 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 Grazie.